Fonditalia con Tommaso Giacomel ci troviamo a Modena, Ski Pass, come dicevo anche a Didier l'ultima volta che ci eravamo incontrati qui a Modena ancora facevate parte delle squadre giovanili, invece oggi vi troverete addirittura a rappresentare la squadra nazionale presentando la stagione di Pietro, insomma un bel passo avanti anche in questo senso. Sì, sono passati un paio d'anni, non tantissimi, però abbiamo fatto le scale abbastanza velocemente e sì, oggi siamo qui a Modena a rappresentare la nostra squadra. Ecco Tommaso, come sta andando la preparazione? Nel senso ci eravamo visti dopo, ci eravamo visti a Rupolding l'ultima volta, ecco da quel momento in poi come sono andate le cose? La settimana dopo Rupolding a Oberhof e quella dopo ancora Anter Selva fisicamente sono andate molto bene, anche al tiro qualcosa è andato bene, qualcosa meno. Poi abbiamo staccato una settimana e le tre settimane successive sono state abbastanza dure per me. Il raduno di Ramsau mi ha stancato molto, sia fisicamente che mentalmente, ci ha messo un po' a recuperare, però Anter Selva ho sentito che le cose hanno ricominciato ad andare per il verso giusto e la strada è quella giusta e speriamo che ci porti dove abbiamo programmato di essere. Senti, ci puoi spiegare un po' qua anche che lavoro fare adesso sui giovani? Cioè quanto è importante per esempio questo raduno prestagionale? Cosa farete? Il raduno prestagionale sulla neve è fondamentale, innanzitutto bisogna riacquisire un po' il feeling sugli sci che abbiamo un po' riacquistato a Ramsau, però a Ramsau c'è l'altura, siamo molto piano e bisogna stare un po' attenti, invece questa volta scenderemo di quota, si può lavorare ad intensità più alte e penso che dopo i primi giorni di adattamento diciamo di nuovo alla neve e agli attrezzi più lunghi che sono gli sci, al contrario gli schiroi, penso che inizieremo di nuovo a fare intensità anche sulla neve. Curioso del confronto che avrete con Johannes Baux, con Legrad e Christensen? Sì, sono molto curioso di vedere innanzitutto il nostro livello e poi loro si sa magari la squadra A non va ma hanno una squadra B molto competitiva, se non va la B c'è la Junior e se no ci sono i team privati e i norvegesi si sa che sono un'eccellenza quindi non mi porrei molti dubbi sul loro livello. Qual è l'obiettivo se te lo sei già posto per la stagione? Obiettivo per la stagione? So che se gira tutto bene magari in una sprint il podio è anche fattibile, è molto difficile però non è impossibile, l'obiettivo principale sarebbe quello di essere un po' più costante soprattutto al poligono visto l'ultima stagione fisicamente sono stato molto costante, ho avuto solo una brutta giornata con Tiolati, tutto il resto è andato molto bene però ho avuto degli alti al poligono ma anche dei bassi molto profondi e quindi quest'anno spero di essere più costante. Hai lavorato qualcosa in particolare proprio per trovare questa costanza? Ogni tanto devo cercare di fermare il mio istinto e pensare un po' di più a quello che faccio ma questo l'ho già detto diverse volte in tante interviste e ancora non sono riuscito a farlo, spero che arrivi il mio momento diciamo della maturità sul tiro e spero di mettere spero di mettere in campo quello che so fare. L'ultima cosa è se senti come ho chiesto anche a dito un pochino più magari di pressione col fatto che si sono ritirati sei 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 Thomas Bormodini che ha fatto ottimi risultati nelle ultime stagioni un monumento come Dominic Vindici ecco se sentite un po' più di responsabilità visto che insomma insieme a Lucchi siete quelli magari che vengono un po' più visti? Ma la pressione io la percepisco in un modo sempre positivo vuol dire che ci siamo guadagnati uno status abbastanza importante chiaramente bisogna bisogna saperla gestire però non mi sento non mi sento per niente sopraffatto affogato diciamo dal dovere di fare risultati so che se faccio le cose bene i risultati arrivano e quindi io almeno io percepisco la pressione come qualcosa di positivo.